lei è andata venerdì e ha protestato sotto l'ambasciata noi abbiamo fatto una manifestazione venerdì con Fratelli d'Italia davanti all'ambasciata turca chiedo scusa perché la penso come lei penso che sarebbe drammatico per l'Occidente dare ancora una volta o dare il segnale che si abbandonano i propri alleati noi dobbiamo ricordare che i kurdi hanno in questi anni eroicamente combattuto contro ISIS e quindi insomma contro quello che oggi è il nostro principale nemico ma siamo stati sotto l'ambasciata turca anche perché Giletti io considero molto pericoloso il disegno imperialista di Erdogan Erdogan voglio dire da una serie di cose che fa cova il sogno di ritrasformare la Turchia in un sultanato di tornare lui a essere un sultano ma lei capisce se l'Occidente se l'Unione Europea non dicono una parola su queste rivendicazioni imperialiste sappiamo dove cominciamo e non sappiamo dove finiamo ecco però questo è il ruolo